Buongiorno, come state? Io bene. Devo fare un super haul con voi di quello che ho comprato. Allora, partiamo da loro. Sono contentissime, mi sono arrivati perché oggi avevo voglia di mettere in questa tuta e avevo ordinato loro. Ovviamente Agile, quest'anno sono super in pista, aglio di tutti i colori. Mi mancava questo. Guardate, cioè proprio per la mia tuta, capite? Guardate tutto il jeans, quanto è bello di questo colore. Ho preso, pensate io al 39, ho preso il 38 perché era l'unico numero disponibile, l'ho preso su Zalando. E il fatto è che non è, cioè non trovavo il mio numero in nessun sito e siccome lo volevo troppo, ho preso il 38. Lo devo provare però, perché secondo me, viva piccolo. Allora, intanto l'ho preso, poi scegliamo. Ora passiamo a Zara, che ho fatto un mega ordine. Tutte cose molto comode, vi faccio vedere. Maglioncione. Io ho preso una S. Vediamo. Guardate. Bello. Bello, super over, con il jeans, mi piace, è super caldo. Poi, io sono in fissa con sto dire super. Vediamo se c'è tutto, perché ragazzi, ho trovato la scatola aperta. Quindi voglio capire se c'è tutto, credo di sì. Poi, tute. Sapete che amo le tute d'inverno, purtroppo, per fortuna. Mi metto solo tute. Di questa ho preso una S. Stupenda. Sentiamo se è felpata. Sì, è felpata. Questa è il pantalone. Ho preso una M, sì. Perché lo voglio over. Devo provare tutto, ovviamente. Questo è il pantalone. E questa è la felpa. Figo. Molto bello. Ma anche con il maglioncione sopra. Molto bello. Poi, ho preso un bel po' di magliettine. Un bel po'. Perché io... Ah, no. Aspettate. Sì, sì, sì. Perché io, inverno, vivo con queste magliettine. Allora, a costine marrone. Perché il marrone è testa di moro. Chiamatela come volete. XS. Questo è il codice, vediamo se... Ok. Perché mi serve marrone. Assolutamente. Quest'anno mi piace un sacco. Poi, ho preso questo body. Bello. Non sapevo di averlo preso, questo. Con la zip. Ma la zip è dietro. Bello, questo body. Nero. Beh, questi sono quelli che... Io, quando faccio gli ordini, butto sempre dentro. Perché li uso come pane. Questa maglia... Ah! Questa qui è troppo carina, ragazzi. Io sono infissa con questi fiocchetti da quando sono piccola. E mi piacciono un sacco anche adesso. Con questo scollo qua, super sempre attillata. Da mettere dentro i jeans. Sempre a costine. Questa guarda è bellissima. Troppo carina. XSS. Vi metto sempre il codice. Poi l'ho presa. Color senape e sabbia. Chiamatelo come volete. Anche questa qua. Maniche lunghe. Sempre corta. Ma queste sono le 800.000 magliette che io prendo sempre. Sempre S anche questa. Non so se vede il codice. Poi l'ho presa, ovviamente, bianca. Mi mancava il bianco. Non può mancare. Non è neanche tanto trasparente. Bianca. Poi l'ho presa. Non mi ricordavo di averla presa. Rossa. Questa però ha un taglio diverso perché è più lunga. Vabbè, ho preso l'XS. L'ho presa rossa perché mi piace un sacco questo colore sul jeans. È bello. Lo trovo bellissimo. Poi ho preso quest'altro body. Ah, no, non è una body. È una maglietta. Un'altra maglietta nera. Però ha il taglio come se fosse una polo con i bottoncini. Quindi lo possiamo tenere anche aperta, un po' scollata. Ci sto andando un po' sexy. Questa è molto leggera. Il tessuto è molto leggero. Poi ho preso questa tutta. Un'altra tutta, ovviamente. Bellissima. Questa è guava. Questa l'ho presa. Guardate, è bella questa. Questa è un po' crop. Non è molto lunga la felpa. Così è davanti e così è il dietro. Con il pantalone. Guardate. Che ho preso una M sempre. Mi piacciono sempre Uber, però li devo provare. Quindi così col pantalone. Che dietro ha la scritta Malatta. 1975. Ah, sì, l'ho presa perché era l'anno di mia mamma. È l'anno di mia mamma. E quindi mi piaceva. E l'ho presa. E questa, che completa ovviamente l'outfit. La magliettina sotto. Perché la modella ce la va su così. Essendo che questa qua ha la zip. Se la tengo aperta, la magliettina sotto. Troppo carina, ma anche il corte. Una S. Questo addirittura ha il cartellino. Con i prezzi seranieri. È finito. Questi sono. Questo è l'ordine che è arrivato. Mi sono promessa di non comprare più nulla. Perché ragazzi non potete capire come è conciata la mia camera. Ve la farei vedere. In tanto ho l'olio in testa. Però mi devo allenare. Dopodiché. Mi laverò i capelli stasera. Perché mi sto allenando spesso. E quindi in teoria il martedì, il mio giorno libero, mi alleno anche oggi. E mi farei vedere la mia camera. Ma giusto che non ve la faccio vedere per non farvi spaventare. Ma c'è veramente di tutto. Tra un po' esco fuori io. Siamo tipo io e Bebe che abbiamo uno spazio piccolissimo. È vero che sto comprando case. È vero che andrò in casa nuova. Non a breve. Però. E sarà bella grande. Il problema è che per ora non ci siamo più noi. Quindi sempre bellissima la nostra Greta Rossetti. Lei vestita Glemuro, vestita Super Easy. È ugualmente stupenda. Ci vediamo alla prossima Greta. Un bacio grande. Ciao.